ciao a tutti da Ale e Matti stavamo potenziando queste cose e cominciamo il prossimo capitolo il 4-1 penso oltre il 3 ok eh che cos'è che cos'è è un video parte mettiamo un po' il volume no come huh wait we can't have gone too far Joss thanks thanks ma che c'è uno eh costa un pochino grazie 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 ci penso io mica solo no eh fai eh possiamo un pochino alto ok 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 no 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 also no no can da me lo conto nella coppia di amore benedetto la ricerca per il corso dell'anno aveva quello dici questo appunto un po' un po' che so credere e fa un po' che ha delle munizioni fa un po' che ha un po' di munizioni e che ca' però aspetta che devo dire a cosa ah non lo so un po' non lo so non lo so ma ah non c'è ma che cavolo è no ma che cavolo è ma che cavolo è spinto capo il supporto ma non sono tutti non d'arri un bel occhio il alzano odia il bambino riuscita a ricarica porto buonanotte e' un uomo ho preso è un modello di più andate a me scusate 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 ma non è stato scusate prima ci siamo andati adesso con apparecchiare ci siamo andati adesso con apparecchiare eh papà non lo dobbiamo aspettare ma vabbè ma aggiungiamo spara quel barile corri no 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 eh sì stamattina no 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 ok 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 ora abbiamo abbiamo piccolo piccolo no 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 ok adesso no 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 eh sì per le persone per le persone che c'erano a forza sì no io sto con la seconda squadra perché hanno fatto una squadra che ci stanno quelli nuovi eh e poi alcuni della prima squadra invece io sto con ci stanno Andrea della terza squadra e poi quasi tutti della seconda no e perciò il gruppo è pieno no no dovevano venire cioè non erano venuti quattro va dall'altra parte corri cioè non erano venuti in balfa dei bambini ne erano ne mancavano ne erano ne erano c'era ancora una no corri a lei non speriamo che abbia un po' di spazio no però io ti senti che voglio dire ti chiamando poco tu vuoi vincenzo e vincenzo deve starci se no 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 ma lei io sto un po' nella tappa vittoria me i new io i i i i i i n usciti ma io capo posto a sbatti di nono benissimo la mia la mia teglia no 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 ora andiamo a guardare l'infinitivo cosa pensi di fare l'uomo? se c'è un gioco belli quelli ci servirebbero vero? tanti l'ingotti d'oro come non è vero è il plagas non so 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 se vede che si trova ahahah non so non so mi chiede mi chiede a madonna cos'è oddio bello oddio sai che fa un po' di pistoletta vero? è una male che ci stanno le mitragliatrici e iniziamo a crepare il bing dove sei? oh che bel rottino che mira cello perchè c'è poca mira? l'avevo quasi preso dai grepa aiuto 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 dai è morto quasi morto no non è vero ma perchè oh da me è morto eh i fortuna no non qualche di noi il bing tanto non ti riesco qui sto aspetta mi non non coi odio mi mi scudo perchè finita la carica sta sicuramente di qua ecco 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 manca poco manca poco manca poco inizio ma nuova in e' infatti dai credo a voi che era molto giusto non mi sentissimo il bimbo del cavolo maritana maritana alberto prossimo calabarra a porta non è bello purello bello. gill puro bollas di che cosa parli? eh non sapessi il fucile è riuscita cacchio non so vabbè, non lo comprerò come fa con un po' eh, non so se vuoi che c'è quella calerna no, è vero dove c'è sta calerna mi abbiamo battuto tutti buono morire non è male, è un po' no, è segnalato per il tuo cuore non c'è la calcia oddio ahhh che schifo ecco ok ok e anche questo capitolo è finito ora ma so 9 minuti e 6 secondi 9 minuti allora vediamo un po' che possiamo potenziare ok con 3.000 come faccio? ma ma 4.000 precisi una cosa 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 ciao a tutti da città Ale e Matti ciao al prossimo